Bonjour, miei splendidi amici, bentornati su Rifugio Perfetto. Oggi volevo farvi vedere la pulizia dei vetri esterni, che sono particolarmente sporchi, però piove, quindi non è possibile. Vi farò comunque vedere il metodo, anche se purtroppo l'inquadratura sarà più stretta e i vetri non abbastanza sporchi. Però la tecnica è ottima e non vedevo l'ora di farvela conoscere. Ovviamente se ancora già non lo utilizzate, come sempre fatemelo sapere nei commenti. Inizio preparando il detergente vetri, che è facilissimo da fare, con pochissimi ingredienti. Una tazza di acqua, una tazza di aceto e mezza tazza di alcool denaturato, quello rosa va benissimo. Per la pulizia possiamo usare un panno in microfibra, una vecchia maglietta o la carta di giornale. Io mi trovo bene anche utilizzando i volantini. Infine l'ultimo passo, quello di spruzzare nella parte alta e puliamo in un'unica direzione dall'alto verso il basso. Senza bisogno di strofinare da una parte all'altra, io mi trovo molto bene con questo metodo. Certo, ognuno è abituato a pulirlo in modi diversi e fa bene qualsiasi cosa, l'importante è che comunque il risultato ti piaccia. Però facendo così ho notato che si risparmia moltissima energia. Un altro metodo, soprattutto per i vetri esterni, che sono sempre più sporchi, è quello di utilizzare un tergivetro. Solo che mi sono orata conto di aver sempre sbagliato il modo di usarlo. Questo è quello che non dobbiamo fare. Facciamo così invece, spruzziamo il detergente su tutto il vetro e passiamo il tergivetro facendo un movimento a esse. Anche qui risparmiamo energia e la pulizia viene perfetta. Poi se vogliamo con il panno o con la carta possiamo rifinire piccoli dettagli, la cornice o qualche gucciolina che è rimasta. Cosa ne pensi di questo metodo? Già lo conoscevi, già lo usi oppure pensi che lo utilizzerai? Scrivimelo nei commenti. Ora ti faccio vedere un altro metodo per pulire i vetri molto 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 sporchi, sempre con il minimo sforzo. La lana d'acciaio è fantastica per la pulizia dei vetri. Parlo di quella extra fine numero 0000. La trovi nei negozi di bricolage. È molto sottile e non graffia il vetro. Elimina facilmente le macchie di sporco e di calcare. E fa splendere i vetri. La utilizzo sui bicchieri per togliere le macchie di calcare. Questo è il metodo utilizzato nelle pulizie professionali. Da quando l'ho scoperto mi ha cambiato la vita. Nessun graffio ma tanta lucentezza. Ti consiglio di utilizzarlo per la pulizia dei vetri molto molto sporchi. Oppure semplicemente per togliere gli aloni lasciati dal detergente vetri. Che a lungo possono creare uno strato opaco sui vetri. È perfetto per le pulizie di primavera. Bagna la spugnetta con acqua e detersivo per piatti. E strofina facendo dei movimenti circolari. La nana d'acciaio anche se è sottile non si può usare sui vetri oscurati. Un altro accorgimento è quello di buttarla appena presenta dei punti di ruggine. Perché la ruggine potrebbe graffiare la superficie. Risciacquo con un panno umido e asciugo. Il vetro era abbastanza pulito. Quello che ha fatto eliminare gli aloni. Renderlo più splendente rispetto alla normale pulizia. Un altro fantastico uso è per la doccia. Elimina le macchie di calcare senza fatica. Spruzza il tuo solito detergente. E strofina con movimenti circolari. Risciacqua e asciuga. La uso anche per lucidare il marmo o togliere le piccole macchie. Sono sicura che da oggi la userai anche tu. Sono felice di aver condiviso questo piccolo segreto. Come sempre spero che ti sia piaciuto il video. Fammelo sapere nei commenti. Noi ci vediamo prestissimo. Un abbraccio. Ciao.